Il Ponte Questo è un ponte. Siamo nel 1952, a Mosca, al centro di ricerca Kurchiatov. Un gruppo di ricercatori sta testando una tecnologia con lo scopo di ottenere energia virtualmente illimitata, pulita, senza scorie o sottoprodotti rilevanti. Siamo in un'epoca in cui la guerra fredda è in escalation piuttosto rapida e il progetto, infatti, è classificato come top secret. Anche questo è un ponte. Ma di questo ne parliamo tra poco. Ora torniamo agli anni 50. I fisici russi, poco dopo anche quelli europei ed americani, erano convinti che sarebbe servito poco tempo e risorse relativamente limitate per ottenere una tecnologia così profondamente rivoluzionaria. Entrambi i blocchi, sovietico e occidentale, erano infatti reduci da una prolifica serie di studi sulla bomba H, la bomba a idrogeno, ovvero una bomba termonucleare. Il principio con cui funziona la bomba a idrogeno è in qualche modo simile a quello che avviene all'interno del Sole. Due piccoli atomi elettricamente carichi collidono, fondono i loro nuclei e sprigionano una gigantesca quantità di energia. Quello che gli scienziati in questione stanno cercando di ottenere è lo stesso principio, ma in un ambiente controllato. Lo scopo quindi ora non è più generare un'arma superpotente, bensì produrre energia tramite la fusione nucleare o nuclear fusion. Del resto però costruire una stella sulla Terra è piuttosto complicato ed emersero presto difficoltà dal punto di vista ingegneristico, delle scienze dei materiali, della fisica teorica e della fisica dei plasmi. Un momento chiave che rappresenta una svolta nella storia dello studio della fusione avviene nel 1958 a Ginevra alla conferenza soprannominata poi Atoms for Peace, Atomi per la pace. Uno degli obiettivi di questa conferenza era quello di riunire i gruppi di ricerca più rilevanti al mondo e di presentare lo stato dell'arte dello studio sulla fusione, rompendo quindi la classificazione top secret. Questo è già un ponte meraviglioso. Si giunse ad una quasi unanime conclusione per cui il sistema migliore per controllare questa stella, questo Sole, è attraverso un reattore dalla forma toroidale, un cosiddetto tokamak. In due parole, è una ciambella metallica circondata da bobine che generano campi magnetici sufficientemente forti ed accurati tali da poter controllare questa stella, questo Sole, confinarlo e stabilizzarlo per un sufficiente periodo di tempo. Ma quanto ci spaventano i cambiamenti? Benissimo. Se potessimo ottenere energia dalla fusione oggi, non cambierebbe assolutamente nulla nella nostra vita di tutti i giorni. Semplicemente eviteremo di distruggere il pianeta come sta avvenendo adesso. Adesso. Anche adesso. Atoms for Peace è un punto di svolta dopo il quale scienziati di tutto il mondo cominciarono intense collaborazioni ed, in particolare, intorno alla fine degli anni Ottanta, Europa, Stati Uniti, Russia e Cina gettano le basi per una collaborazione internazionale con lo scopo di dimostrare la fattibilità della fusione sulla Terra. Il progetto si chiama ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, ed è attualmente in fase di costruzione a Cadarache, nel sud della Francia, nella regione della Provenza. ITER, che è l'opera tecnologica più complessa mai realizzata dall'uomo, sarà in grado di generare un plasma di 100 milioni di gradi, dieci volte più caldo del centro del Sole. E a pochi metri, da questa relativamente piccola ma caldissima stella, dell'elio liquido utilizzato per il raffreddamento di alcune componenti avrà una temperatura di meno 270 gradi. Quindi, nel giro di pochi metri, il punto più caldo e uno dei punti più freddi dell'intero sistema solare andranno a coesistere in ITER. Nei decenni scorsi sono comunque stati costruiti altri reattori sperimentali per lo studio della fusione. Tra i più rilevanti vanno citati JET ad Oxford, ASDEX Upgrade a Monaco, East in Cina e D3D a San Diego, alla General Atomics in California. Attualmente io mi trovo in questa sede e ho principalmente due sensazioni che viaggiano in parallelo dentro di me. La prima è sicuramente gratitudine per poter far parte di un progetto così profondamente proiettato nel futuro. La seconda è una sorta di responsabilità, considerato che questo può letteralmente modificare le sorti del nostro pianeta. Questo ovviamente vale per tutti i ricercatori che come me condividono questo viaggio fantastico. Ma facciamo un passo indietro. Da mediocre, talvolta pessimo, studente alle scuole superiori, come sono arrivato fino a qua? Sicuramente un lavoro strepitoso e faticoso da parte di miei genitori ha fatto la differenza. Sicuramente ho avuto anche molta, molta fortuna nel trovare professori che mi stimolassero nel modo giusto. Ma un elemento chiave che mi porto dentro ancora oggi è la cultura hip hop. L'hip hop è un movimento culturale che nasce negli Stati Uniti agli inizi degli anni 70 e che comprende al suo interno la musica rap, i graffiti, il DJing e la break dance. È sostanzialmente poesia in movimento, un ponte unico il cui motto è pace, amore, unione e divertimento. L'ho conosciuto con tutto ciò che non era scuola. Ma attenzione, con questo non voglio assolutamente dire che lo studio non ha porti benefici, anzi, specialmente ad oggi lo studio è parte integrante della mia quotidianità. bensì che è coltivando le proprie passioni che si viene portati in luoghi dove uno non avrebbe mai pensato di ritrovarsi. Un modo per andare oltre i propri limiti, che siano questi imposti da noi stessi o dagli altri. È il sogno, l'obiettivo, che ti permette di diventare quello che non pensavi poter essere mai. Ma quindi come ha influito un movimento apparentemente così distante nella mia vita e nel mio percorso di lavoro e di studio? Sicuramente mi ha insegnato il silenzio e l'ascolto. Così come da ragazzini passavamo interi pomeriggi cercando di assimilare ogni singola parola che ci veniva detta dai ragazzi più grandi, così oggi parte del mio lavoro è studiare ed ascoltare opinioni di scienziati più anziani che hanno fatto la storia nel nostro campo. Sicuramente mi ha insegnato anche la pazienza, perché così come prima di poter partecipare ad eventi importanti si passano anni di cosiddetta gavetta, così oggi mi trovo coinvolto in un progetto che vedrà la luce dopo il 2080. Esattamente. Probabilmente non potrò nemmeno assisterci di persona. Mi ha insegnato anche il rispetto verso chi ne sa di più di me, certo, ma anche verso chi ne sa di meno di me, perché tutti siamo stati principianti almeno una volta in tutto. sono l'attitudine e il metodo che questa cultura mi ha trasmesso che mi ha permesso di focalizzarmi in un qualcosa di molto più grande di me, in un'ottica collettiva e non individualista. Tutto questo può essere racchiuso in un vecchio detto afroamericano che ritengo oggi essere più attuale che mai. Each one teach one. Anche questo è un ponte. Grazie. 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 Grazie.